Se Bari e Foggia sognano il salto di categoria, c'è una cittadina a nord del capoluogo che adesso ha in testa solo lo Scudetto. Quasi 60.000 anime, tutte nero-verdi a Bitonto, che questa sera si stringeranno attorno alla squadra di calcio a 5 femminile, che sta per fare qualcosa di grandioso. L'Usileia, Castagnaro, Renatini e compagnie saranno di fronte al tiki-taka Franca Villamare nella gara 2 della serie di finale Scudetto, con una gara 1 messa in casa forte, con una vittoria in terra abruzzese. Bisognerà vincere o al termine dei 50 minuti regolamentari o dopo i supplementari e calci di rigore, per far scoppiare la festa in una città che solo due anni fa, forse, conosceva solo minimamente l'esistenza della formazione di calcio a 5 cittadina. Merito del patron Silvano Entini e del suo staff, che prima hanno vinto la 2 conquistando la massima serie, l'anno scorso hanno allestito una squadra competitiva che purtroppo non è riuscita ad andare in fondo e quest'anno hanno già portato a casa la Coppa Italia. Palapanzini che sarà gremito in ogni ordine di posto, dalle ore 17 si aprirà il botteghino, alle ore 19 invece i cancelli per accedere all'interno dell'impianto. Nelle prime 48 ore erano stati venduti mille biglietti, ma questa sera Giovinazzo saranno molti di più per spingere la squadra ad un'impresa storica.